Bene, buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza in attesa che ci raggiunga il sindaco che contemporaneamente nell'altro incontro in cui si parla del piano delle coste, in questo momento stava facendo l'intervento che ci raggiungerà a breve. Io fordo il saluto al Presidente D'Aroviccia, al Dottor Gaffellone che puntualmente è presente sempre nella nostra città, il Professore Maurizio Nocera che interverrà anche per quanto riguarda la presentazione e soprattutto il nostro concittadino autore, il Dottor Mario Giuseppe Potenza, autore del libro che stiamo presentando, Municipio e Governo Centrale. Abbiamo già assaporato qualche pillola di questo interessante lavoro che il Dottore Potenza ha portato avanti e che oggi finalmente è a disposizione, di chi vuole approfondire non solo aspetti che riguardano il Governo Municipale, il Governo Statale, ma che riguardano soprattutto, e questo è l'aspetto che per la verità mi ha più colpito, il cittadino, il suo rapportarsi con le istituzioni, con chi ha il dovere di amministrare, ma amministrare soprattutto per il bene collettivo, cercando di far rispettare quelle che sono le leggi all'interno delle pubbliche amministrazioni in favore e nell'interesse dei cittadini. e lo dicevamo prima con il Dottore Nicolini, molte di questi richiami che ci sono nel libro sono di un'attualità estrema perché ci riscontriamo in molte pagine quello che molto spesso noi oggi stiamo vivendo e da cui ci aspettiamo veramente, nonostante siano passati secoli, ne abbiamo visto da queste immagini che sono state presentate, un cambio di tendenza per quello che sono oggi le regole che governano i comuni e le altre comunità come la provincia, la regione e il Parlamento. Io non mi rilugo, c'è ancora tempo per aggiungere altre cose e voglio passare subito la parola al Presidente della provincia, il Dottore Capaldone. Buonasera, un saluto il Dottor Giuseppe Mario Botenza, saluto tutti i presenti, il Dottore Nicolini, le autorità, grazie per la presentazione al Sassone Capaldone, un saluto particolare a una persona che seppure non stato da luglio da un po' di anni, ma insomma le sue radici e i suoi effetti rimangono in quella realtà e in quel luogo. Il volume che ho avuto la possibilità di scorrere dà immediatamente la misura di identifiche, immediatamente l'autore dello stesso volume, persona presente nelle istituzioni pubbliche, segretario generale di alcuni comuni importanti e di province importanti, soprattutto nel NONED. Questo ha testimonianza di un rigore, di un'attenzione, di una sensibilità particolare per recuperare alcuni momenti della vita della pubblica amministrazione, di cui sicuramente il Dottor Potenza è stato, diciamo, ne ha vissuto gli eventi, momenti importanti e anche questo il suo spirito, questa sua esigenza di ricerca che trasferisce a noi un'idea di tutto ciò che è la pubblica amministrazione, di quello che è accaduto nel corso degli anni e di alcuni momenti storici che in qualche modo ripercorrono e ripetono situazioni che noi oggi attualmente viviamo. È uno spaccato importante perché evidentemente siccome alcuni documenti riportati, alcuni passaggi segnano la vita amministrativa di comuni della nostra provincia, noi ricariamo alcune notizie che altrimenti non riusciremo ad avere. È un modo per analizzare quel rapporto, quel difficile rapporto, quel complesso rapporto che è sempre esistito tra il potere, lo definisce il Dottor Potenza, parlerei di amministrazione, della cosa pubblica, ma siamo lì, e il soggetto amministrato, l'idea è il cittadino. Questo difficile equilibrio e questa difficile corrispondenza che naturalmente viene mediata da un potere legislativo che evidentemente riflette e ripercorre in diversi momenti storici. Quindi è un'analisi puntuale che parte dal periodo dell'impero romano e poi arriva sino ai giorni nostri, cosa dovizia di particolari. Alcune cose sono state dette, io le avevo sottolineate. È chiaro che il modello è quello delle municipalità dell'impero romano, quindi dell'organizzazione delle municipalità durante l'impero romano che interessa le diverse realtà e che regola la vita cittadina. E qui è importante rilevare alcune situazioni che poi in forma evoluta, meglio disciplinata, innovata dal punto di vista legislativo, regolano la vita attuale, che in alcuni casi dimostrano che le esigenze permangono e poi bisogna avvantarle, armonizzarle con i tempi. Il sistema dei controlli, già nel periodo romano, nelle pubbliche amministrazioni, quindi il tentativo di evitare che chi amministrava imponesse o chi amministrava non rispettasse pienamente le leggi, è un tema che ricorre anche nelle diverse fasi storiche ed è un tema che apre ad una riflessione importante per chi oggi ha detto ai lavori. Negli ultimi anni i sistemi di controllo sono andati un po' diciamo scomparendo alle pubbliche amministrazioni. Quindi se il magistrato all'epoca romana andava a verificare l'operato delle pubbliche amministrazioni, ecco riportandola qualche anno fa a questa proiezione, noi trovavamo il Corrego, salutiamo il sindaco. Il comitato dei giornali, i comitati dei giornali di controllo che analizzavano, che esaminavano le delibre, gli atti amministrativi che poi man mano sono scomparsi e attraverso processi di autoregolamentazione che per certi versi, come in qualche modo avveniva in passato, poi lasciano a un senso di responsabilità, come definisce il dottore Potenza, diciamo dell'amministratore dell'interlocato. Il candidato, il candidato si presentava con un abito candido, con un abito unico che in qualche modo si può definire. Beh, oggi, ecco la similitudine che si cerca di riportare e la somiglianza, cosa accade oggi, l'immagine del candidato. Ieri c'era il diciamo, nel senso positivo, il padrino, il presentatore del candidato che aveva una veste, tutto un vestito, un modo di vestirsi particolare, oggi c'è questa immagine che è importante al di là, forse, e questo è un grave errore che commentiamo, al di là dei contenuti e della sostanza. Quindi questo testo così articolato e si spiega anche in maniera per capitoli, per cui è veramente interessante, prende il lettore perché lascia intravedere o in qualche modo soggioga chi è intento alla lettura perché attraverso una rappresentazione di diversi momenti, quindi diversi momenti storici, affascina perché ognuno, ogni lettore può stabilire anche dei parallelismi con la situazione attuale e comprende come in alcuni casi, ahimè, la situazione non è impiorata, in altri evidentemente gli strumenti a disposizione di chi amministra anche in periodi di crisi come il nostro, diciamo, sono, consentono di poter amministrare con, diciamo, una certa equità. Vi sono alcune riflessioni da fare anche, da vogliere rispetto al momento, all'epoca attuale. Poco fa era andata in visione una lettera in cui la data, la data si riportava a 185, era 1857 e poi appena si metteva l'anno. Questo cosa ci lascia, cosa lascia intendere? Questa attenzione nella gestione della cosa pubblica e quindi nel risparmio nella, diciamo, puntualità dell'utilizzo delle risorse pubbliche perché quella stessa carta poteva essere utilizzata pur con il passare degli anni, evidentemente bastava aggiungere a penna un anno diverso e quindi questo consentiva di evitare che del materiale, dei fogli di carta potessero mandati. Poi le altre, il rigore, ecco, questo è un punto in cui l'autore, il dottore Potenza, pone una, diciamo, un paragone, un parallelismo con la situazione attuale. Era vietato, nell'epoca dell'impero romano, la possibilità di festeggiare, di fare banchetti, di in qualche modo tentare di cogliere il voto dell'elettore perché ciò poteva portare anche all'espulsione dal territorio, addirittura al trasferimento in altro luogo e questo deve farci ripetere in un momento in cui ci si porta sempre di più verso sistemi viporani con situazioni che puntano molto sulla campagna mediatra e quindi su spese e costi delle campagne elettorali non di poco conto. All'americana oggi potremmo dire, ecco, forse recuperare dalla tradizione romana, dall'impero romano, situazioni di rigore, di attenzione nella stessa potrebbe essere un, diciamo, un metodo da seguire dei trattuali per fare in modo che il voto possa essere anche, possa avere un maggiore, possa essere espressione di maggiore democrazia e soprattutto di maggiore libertà. Quindi uno scandire, diciamo, della vita delle pubbliche amministrazioni nelle diverse fasi del periodo di storici del nostro Paese, sino a giungere ai giorni nostri, passando evidentemente anche dal periodo post-romano o, diciamo, di decadenza dell'impero romano, in cui evidentemente il legislatore si preoccupa di andare a ricomporre, a rivedere il quadro delle istituzioni locali ai vietti locali perché evidentemente c'è la necessità di recuperare un'organizzazione dei vietti locali che probabilmente questo si risume dal, diciamo, dal testo, ha determinato questa disorganizzazione, questo mancato controllo degli enti locali nel periferici è stata una parte importante della causa di decadenza dell'impero romano. E quindi, diciamo, il tentativo, partendo dal post-romano ma soprattutto l'autore lo definisce dal periodo alto medievale, da un tentativo di recuperare efficienza la macchina amministrativa e quindi una innovazione, un ammodernamento anche dal punto di vista legislativo. E anche qui noi troviamo un riferimento importante con la semplificazione amministrativa normativa a cui il, diciamo, il dottore Potenza fa riferimento. Una semplificazione normativa in un paese, il paese, quello italiano, di cui il dottore Potenza ha un'esperienza straordinaria in campo amministrativo. E quindi, diciamo, sottolinea come, purtroppo, il nostro sistema legislativo è spesso pagaginoso, è spesso, diciamo, non è così chiaro come noi abbiamo visto accadeva nel tempo passato, quando chi non puntualmente non andava a pulire vicino a casa almeno una volta alla settimana veniva puntualmente ripreso o chi non faceva attenzione e l'accensione dei lumi dalla tale ora a tale ora, bastava la testimonianza di due persone per poter consentire al sindaco di punire quell'impresa, quella impresa in termini moderni che si occupava di quel servizio. Il dottore Potenza dice che il nostro sistema legislativo, ahimè, purtroppo, non è così chiaro, per cui spesso è fatto riferimento ad un passaggio che io ho voluto sottolineare, sono approgate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con le leggi vigenti, che significa tutto e nulla, perché evidentemente chi deve andare a, diciamo, applicare una legge dovrebbe farsi carico di andare a capire tutto ciò che è compatibile e allo stesso tempo non compatibile con quella previsione normativa. E quindi cosa comporta questa formula? Comporta molta incertezza, comporta incertezza spesso nell'azione amministrativa, quindi comporta evidentemente, diciamo, una difficoltà dell'amministratore dell'ente locale a poter gestire la cosa pubblica con la massima opportunità, dando evidentemente il beneficio della buona fede per gli amministratori e quindi la correttezza di un'azione amministrativa. È un testo che va letto con molta attenzione, evidentemente non solo va letto con molta attenzione, ma in alcuni casi, diciamo, per comprendere il significato intrinseco e in qualche modo recuperare alcuni momenti dell'attualità, perché questo è una memoria storica importante, un riferimento storico importante, ma per il cittadino comune e per l'amministratore diventa uno strumento importante per una valutazione, per l'amministratore del proprio agire politico e una valutazione evidentemente anche delle difficoltà che oggi si incontrano nel porre in essere tutti gli atti conseguenti alle divisioni non attività e per il cittadino per poter sino in fondo comprendere se la partecipazione alla cosa pubblica, alla res pubblica e allo stesso tempo il coinvolgimento nelle scelte decisionali del sistema democratico è perfettamente compiuto e quindi garante di democrazia e di libertà. Io mi fermo qui, ringrazio per questa opportunità di approfondimento, ringrazio anche perché è una testimonianza importante di un uomo che, diciamo, vuol lasciare un professionista che vuol fare tesoro dell'esperienza di vita vissuta e soprattutto vuole aprire è uno scelario, un interrogativo, un momento di riflessione, un momento particolarmente critico per le istituzioni, un momento particolarmente difficile, oggi si parla di rivisitazione, della costituzione, della seconda parte, della necessità di snellimento, di innovazione da un punto di vista legislativo che possa consentire una armonizzazione piena, tra cui un ente che è vicino al cittadino e allo stesso tempo, diciamo, la tenuta del sistema amministrativo che deve garantire parità di diritti e quindi varie opportunità ai cittadini. Sullo sfondo di tutto ciò rimane un importante intreccio tra ciò che è il potere locale, quindi il potere degli enti locali, comuni più in generale e più in particolare anche delle province e delle regioni e il potere centrale. Anche questo è un, diciamo, sullo sfondo rimane questo importante interrogarsi in che modo le due istituzioni agiscono parallelamente in sintonia e in che modo non si creano distonie che rendono complesso, articolato, non sempre compreso, il procedere amministrativo degli enti locali. Grazie per questa opportunità a me di intervenire, di poter prendere visione di un testo, di poter approfondire, diciamo, un'esperienza di vita, soprattutto lascia sul tavolo della discussione dell'interrogativo della funzione piena degli enti locali, che il potere, a me piace definirlo, diciamo, l'amministrazione, l'attività di governo di enti locali, il modo in cui deve corrispondere a quelli che sono i bisogni dei cittadini. Grazie a voi. Grazie Presidente per queste interessanti riflessioni approfondimenti. La parola al nostro Sindaco Marcello Visi. Quando il Dottore Potenza mi ha detto che stava lavorando ad una pubblicazione, ad un libro, che hanno scritto intorno a questi temi, ho subito pensato che si trattava di un'opera che meritava di essere letta, approfondita, discussa, per le ragioni che ha precedentemente illustrato il Presidente Cappellone, per il tema trattato e la qualità dell'autore, che noi conosciamo, conosciamo da tempo, nostro concittadino, più autorevoli, esperti in materia di diritto, in modo particolare il diritto degli enti locali, al suo attivo il Dottore Potenza, diverse pubblicazioni, pubblicazioni che molte delle quali sono state anche oggetto di studio e approfondimento, quindi in sede di formazione da parte di molti esperti, il diritto degli enti locali, di pubblica amministrazione. Il tema è un tema effettivamente stimolante, il libro è pieno di richiami, di suggestioni, di storie, di opinioni, di vicende straordinariamente legate al tema del rapporto tra municipio e governo centrale, legate attorno al tema del rapporto, come ha ottimamente rilevato il Presidente Cappellone, tra cittadini e potere. qui devo fare soltanto alcune brevissime, brevissime riflessioni in ordine ad alcuni tra le tantissime questioni che questo libro che veramente merita di essere letto propone. Innanzitutto si parte dalla sottolineatura del distacco tra i cittadini e le istituzioni. Nella sua introduzione il Dottore Potenza cita, come più volte si è fatto quando si affronta questo tema, anche il dato dell'astenzionismo elettorale che viene giustamente considerato il termometro di quanto profondo e forte sia in determinati momenti e in determinati momenti questo distacco. A questo proposito io credo che ormai sono un po' di anni che noi registriamo questo fenomeno, non è un fenomeno nuovo e recente, anzi ogni volta ad ogni consultazione elettorale ci si sorprende per qualche elemento che segna e rafforza il senso di questo distacco. Una volta il fatto che aumentano le istituzioni, una volta il fatto che crescono ancora, una volta il fenomeno delle nulle, una volta il fenomeno della lei, una volta il fenomeno di movimenti che in poco tempo sull'onda della protesta raccolgono cifre, risultati elettorali a doppia cifra, ma da più tempo, seppure attraverso segnali diversi si registra un filo, c'è un filo che i diversi momenti elettorali segnalano perché è il termometro di questo distacco. Credo che noi, che da anni, come mondo politico, che da anni cominciamo, ragioniamo, riflettiamo, riflettiamo su questo fenomeno, abbiamo ora il dovere ciascuno per le attribuzioni che ha, per il volo che ricoperti, di cominciare a dare anche delle risposte, anche per non rendere vano il lavoro di studiosi come il dottore Cotenza. Sono passati già dalla, ricordo già dalla nascita della Lega, che è un movimento politico della Lega Nord, si fu individuato, che fu segnalato da molti commentatori, da molti studiosi come il sintomo di una febbre della politica, pure sono passati i decenni, sono passati i decenni, eppure questa malattia non si è guarita, ripeto, sono passati i decenni. A volte abbiamo la brutta tentazione di pensare, che tutto si riduca al presente, giudichiamo i fatti dalle esperienze più recenti, se si va indietro di 5, 10, 15, 20 anni, ci si accorge come c'è poco da studirsi di quello che è accaduto ieri o avanti ieri, se si è ignorato quello che in modo clamoroso veniva segnalato 10 o 15, 20 anni fa. Purtroppo la storia recente della politica italiana, in modo di vedere, invece è registrato questo dato. Con riferimento a questo elemento faccio due brevissime riflessioni, noi abbiamo innanzitutto la disaffezione dei cittadini verso la politica cresce man mano che ci si allontano da gli emili locali, da le comunità locali, ovviamente. C'è naturalmente più controllo, più attenzione nei confronti dei comuni, anzi io sul controllo dei comuni favo una brevissima riflessione. Man mano che si passa dal governo locale al governo centrale, naturalmente viene meno la possibilità di controllo e di confronto delle cittadini. È più facile controllare per controllare le delibere del comune o le delibere della provincia, si fa presto, anche per parlare con chi è ministro, molto più complicato come si passa dal governo regionale al governo nazionale. Tant'è vero che il dato dell'astenzionismo è diverso a seconda del tipo di attenzionismo. di controllazione. Come si può superare questo distacco in maniera molto semplice senza fare discorsi troppo filosofici che poi non trovano radica meno nella realtà? Io credo soprattutto vorrei sottolineare due aspetti. Primo, bisogna che si recuperi il ruolo dei partiti che non è secondario a un riferimento alle vicende di cui stiamo parlando. Perché non è secondario? Perché nella mia esperienza politica ormai pluridecennale vedo che il fatto che il ruolo dei partiti sia abbastanza ridotto, sia sminuito, i partiti in sé hanno per momenti di organizzazione quando ce l'hanno molto caotici, non hanno momenti di confronto e di dibattito. Sul piano locale trova qualche correttivo che comunque non fa bene o meno la partecipazione nella formazione delle liste civiche, nella nascita di associazioni. C'è tutto sommato sul piano locale dal punto di vista partecipativo. Poi la medicina c'è. Sono in crisi i partiti. accade che nascano da un partito, dall'eccedere di un partito tra le liste civiche. Ci sono lo stesso i candidati, 24 persone tra le liste, ci sono lo stesso le famiglie coinvolte, ci sono lo stesso le persone che si muovono. Sul piano nazionale invece questo momento di confronto non può essere sostituito da liste civiche nazionali. Non è pensabile. sul piano nazionale, su un livello territoriale più alto, soltanto l'organizzazione classica di un partito, se pure le forme moderne, innovative, che possiamo immaginare, può garantirlo con un fronte moderne. Altrimenti come è possibile, come è possibile, organizzare sulla politica fiscale, per esempio. Un dibattito tra il ministro e una comunità di 5.000 abitanti. Non dico grande come da tutti, 5.000 abitanti. Anche le comunità di 5.000 abitanti sono comunità. non è che bisogna avere minimo 30.000 abitanti per poter parlare. Non esiste questo possibile di confronto. Non esiste. Non c'è proprio possibilità. Perché naturalmente un ministro non può verificare o confrontare le sue proposte di governo con gli 8.092 uomini italiani. ma se ci fossero delle strutture di partito efficienti, organizzate, noi avremmo una serie di confronto anche sulle questioni che riguardano il governo cittadino. Quindi il disfacimento, la crisi dei partiti è a mio modo di vedere la prima ragione di questo distacco tra cittadini e istituzioni, che a livello locale può essere colmata dalla presenza degli stessi, ma non man mano che si cresce non trova ovviamente ragioni di compensazione, perché non le può trovare, tant'è vero che in tutto il mondo sono partiti. La struttura è il luogo dove queste ragioni di compensazione poi trovano soddisfazione in tutto il mondo. E se non ci sono è difficile inventarne altre. Puoi inventare la rete, quello che urla, quello che si inventa, quello che dice Roma ladrona, ma sono risposte sintomo e segno della crisi, non risposte negre ad una necessità di confronto, di una democrazia compiuta. E qui io credo che, ecco perché registro con dispiacere i momenti difficili che le organizzazioni di partito stanno vivendo, che io credo sia del centro-destra che del centro-sinistra debbano trovare un spocco naturale, fisiologico, classico, per poter dare forza alla nostra democrazia. Tenendo la cronaca di questi giorni non possiamo avere il maggior partito, il maggior partito di centro-destra fondato sulle capacità finanziarie di un leader quasi padrone, il maggior partito di centro-sinistra confuso in una rete e in una giugna di bande nella quale ormai si fa fatica ad individuare un panno di discussioni, di confronti. E il maggior partito di Movimento 5 Stelle, sapete tutti come ho organizzato e quali sono i momenti di discussione ai quali lega le sue scelte e le sue proposte. Siamo davanti ad un stato eletto, dobbiamo vedere il coraggio di dircelo anche con cruda forza, è stato eletto un Parlamento che è il sintomo di una ferreza terribile della nostra democrazia. Mi fermo qui e vengo veramente all'altra questione, che è una questione importante. La crisi della politica è anche, e questo chi fa politica lo deve tenere a mente, è anche la conseguenza di un eccesso di tre leggi che hanno caratterizzato almeno una parte del mondo politico, almeno una parte. Noi ce lo diciamo, ce lo diciamo in giunta anche quando ci sforziamo di fare delle piccole scelte, è evidente che i momenti di difficoltà, i momenti di crisi, i momenti in cui tante famiglie fanno fatica ad andare avanti, ad individuare un futuro per i propri figli, è difficile tollerare o accettare privilegi che sono assolutamente sproporzionati, sia perché per nessuna ragione, il privilegio è già qualcosa che non va in sé, secondo perché sono sproporzionati e perché poi cadono e vengono in un momento di crisi, di difficoltà che caratterizzano e toccano gran parte delle famiglie dell'unità. Anche questo, i privilegi della politica sono l'altro, secondo motivo, l'altra seconda ragione accanto alla crisi dei partiti di questo distacco tra cittadini e istituzioni. Io credo che una classe politica, una classe dirigente, se vuole mantenere autorevolezza e credibilità, deve assolutamente rinunciare ai privilegi. Rinunciare ai privilegi, ripeto, sono considerazioni che facciamo anche in giunta quando discutiamo di alcune cose, di alcune scelte che abbiamo adottato, come quella per esempio che non c'è ragione perché l'assessore se in missione da solo non ha ragione di rappresentanza debba farsi rimorzare il pasto, visto che a volte ha anche uno stipendio che magari ha oltre che un'intennità. Non c'è ragione. Sono piccolo, ma non si comprende per quale motivo una persona che ha già un lavoro, che percepisce anche giustamente, non atta, ma percepisce, se è fuori sede per lavoro o per ragioni istituzionali si debba avere il ristorante. Noi siamo posti in questo principio che non è ricordo, ma due tate ce l'ha, perché si propone anche i spaghetti. I privilegi sono un altro aspetto della politica che ha contributo a questo distacco. Su questo la classe politica prima se ne rende conto e meglio è veri bene il Paese. Rapidamente vengo ad un'altra considerazione. Il distacco tra municipio e l'ultima considerazione di cui chiudo questo intervento. Intanto i controlli. I controlli, anche alla luce della mia esperienza di amministratore, ormai da un po' di anni, voglio fare una riflessione. Non è che i controlli, da una parte i controlli si sono riporti. Spiegava molto bene il Presidente Gabellone, alcune ragioni di carattere tecnico, il fatto che sono venuti meno anche alcuni enti che erano treposti ai controlli, come il Comitato regionale di controllo. Se è occupato più volte il Dottore Potenza, non solo in questo scritto, ma anche negli scritti precedenti, sono venuti meno alcuni tipi di controlli. Ma questo non vuol dire che non c'è più controllo nei confronti degli enti locali. Anzi, è cambiato il controllo, forse invece. Primo, faccio alcuni esempi. Innanzitutto ci sono delle regole che non fanno distinzione tra un ente locale che si sa governare e un ente locale invece più disciplinato dal punto di vista finanziario. Per esempio, la norma che dice che ogni cinque dipendenti che vanno, che cessano di lavorare, se ne può assumere soltanto uno. È una norma indiscriminata che vale per tutti e che non tiene conto. Magari dei comuni sottodimensionati come i comuni di Dottore che non hanno problemi a pagare gli stipendi e dei comuni che invece hanno problemi a pagare gli stipendi che sono anche sovradimensionati. Cioè si è sostituito ad una serie di controlli che si caratterizzavano per un'attività di controllo esercitata di volta in volta, caso per caso, ad una serie di norme, che sono veramente tante, naturalmente non pensiamo di annoiarmi il ricordo, quella che dice che il tempo di spesa del personale non può superare un certo livello rispetto al 2010, quella che dice che devi necessariamente assumere un disabile con ogni tot di assunzioni, quella che dice che se ne vanno dieci e ne può prendere al massimo uno, quell'altra che dice che la spesa delle consulenze del 2013 deve essere assolutamente più inferiori al 2010. Una griglia che di fatto impedisce o punisce. Questo è un elemento che va considerato. Secondo, gli enti locali oggi, o molti enti locali, hanno anche comunque messo in piedi una rete di istituti che da una parte consentono un controllo più forte, ma che comunque sono senz'altro indice di un più avanzato livello di trasparenza. Basta pensare ai siti istituzionali, che diversi anni addietro non esistevano. Oggi un provvedimento del dirigente del comune di Nardò, un secondo dopo che è stato firmato e adottato è in rete ed è visibile a tutti, tanto è vero che perfino il sindaco è costretto ad un aggiornamento postante, altrimenti corre un viso che ti chiama il cittadino e ti dice ho visto la determina che è stata pubblicata due ore fa perché avete fatto così e perché il dirigente invece non è fatto in quest'altro modo. Quindi abbiamo i comuni, una rete di istituti, compresi questi legati alla trasparenza degli atti, che rendono più forte il rapporto tra cittadini e amministratori. Difficilmente un cittadino era in grado di conoscere il contenuto, non di una delibera di consiglio comunale, che ha sempre avuto in questa città storicamente profili di pubblicità molto alti, non c'è la stessa trasparenza quando ci si sposta dagli enti locali a livelli più alti. E poi io voglio chiudere questo intervento anche segnalando un problema di molte amministrazioni locali, noi abbiamo un distacco non soltanto forte tra cittadini e istituzioni ed è il titolo del libro ed è la cosa che è più favorevolmente colpito di questo lavoro del dottore Potenza, la cosa che più mi ha favorevolmente colpito perché non sempre la comunità avverte questo distacco tra governo centrale e governo locale. Un distacco terribile, un distacco che a volte inquieta. Faccio un esempio di sintomo di questo distacco. Il governo centrale, appena letto, appena nominato, appena ottiene la fiducia, provvedimento importante, sospensione dei libri. Nessun sindaco sa come deve fare il bilancio 2013. Questo dato alla televisione non si dà come spettare. Nessuno degli 8092 sindaci d'Italia è in grado di scrivere il bilancio di previsione 2013. Non stiamo parlando di una cosa di poco conto, non stiamo parlando della tassa di passi calabili, stiamo parlando di soppressione, di sospensione di una delle imposte più importanti dello spettro e delle imposte del nostro paese. L'Imu, sulla prima transafora, quello che riguarda il nostro comune incide sul bilancio del comune di Nardò, come entrate, come entrate, non come accertato, come soldi effettivamente versati dai cittadini, per quasi 1.400.000 euro. Quello che sta alla voce del bilancio, 1.400.000 euro. La sospensione. Un governo guidato da un bravo capo di governo ha deciso, la sospensione. Non è che ha detto, non è che ha chiamato, non dico tutti i sindaci, ma qualcuno, perché non è che ha comunicato cosa si dovrà fare. Mettiamoci nei panni, ora che nel comune di Nardò paghiamo 1.400.000 euro. Il comune di Nardò è un comune che ha detto un buon livello di liquidità. Noi abbiamo una liquidità, diciamo, normale di intorno ai 10 milioni di euro. Nella cassa del comune ci sono 10 milioni di euro, per cui potremmo anche riuscire a non avere terremoti finanziari, se viene meno 1.400.000 euro per 3-4 mesi. Ma mettiamoci nei panni della gran parte dei comuni che non hanno un rapporto di liquidità-bilancio come quello del comune di Nardò e per i quali, soprattutto alcuni capologhi di provincia, che hanno problemi un po' più gravi, e che si trovano a poter fare i conti con un provvedimento di cui i comuni non conoscono quella che sarà l'effettiva portata. Cioè, se la somma sarà compensata, se si tratta di una sospensione, se si tratta di un impianto. Ora, questo è un esempio, ma non è il solo. Non è il solo, potrei citare tanto, ma ovviamente non lo faccio e mi fermo qui per riferire l'economia e il convegno, ma è un esempio straordinario di come la frattura tra il governo centrale e il governo locale tra i diversi problemi, da chi ogni giorno è costretto poi a misurarsi con le esigenze, con le difficoltà di comunità che hanno bisogno, chiaramente risorse per andare avanti anche al fronte di una serie di aspettative crescenti dei nostri cittadini. Anche questo elemento, anche questo elemento determina un problema di crisi generale delle istituzioni che non è secondario. Anche da questo passa il superamento di questa crisi, dal rapporto tra governo centrale ed enti locali. Tanto è bello che quando si è tornato questo governo in gran parte degli amministratori locali hanno trovato il minimo di conforto nel fatto che fossero presenti nel governo il sindaco di Reggio Emilia, del Rio, il sindaco di Pardo da Zeronato, c'è la speranza che la presenza nel governo centrale, il consiglio dei ministri, di sindaci, di città importanti, alle prese con problemi importanti, possa determinare l'infugamento di questo ignato, di questo distacco. Il libro del dottore Potenza, come avete avuto modo di vedere dall'intervento del presidente Gabriellone e dalle osservazioni che ho provato a delinare in alcuni minuti, offre veramente tantissime, attualissime e importanti suggestioni di approfondimento di confronto. Ecco perché è un libro che ho molto attrezzato, lo ringrazio anche per aver proposto all'amministrazione comunale di accompagnare la sua presentazione. Grazie signor per il prezioso contributo e soprattutto per questo spaccato dell'attività amministrativa attuale. Passiamo alla parola del professore Morizio Cacera. Grazie, buonasera a tutti. Ovviamente intanto che il presidente della provincia interveniva successivamente il sindaco Giuseppe Potenza, come un buon segretario, come un abile segretario ha notato, credo, le osservazioni che ti serviranno ancora per un altro libro. Intanto questo libro, ecco, anzi una precisazione, come ho conosciuto il dottor Potenza, il tramite è stata la poesia, cioè un amico comune, Pippi Greco, ci fa incontrare, Potenza mi dona dei libri di poesia e io rilecco non leggendo un libro di poesia per una persona che non si conosce da tempo, ovviamente è difficile farsi un'idea della personalità. Però poi l'incontro, l'amicizia è andata avanti fino a che non è arrivato questo manoscritto su governo centrale e potere locale. E anche in quel caso la lettura è stata, diciamo, abbastanza attenta, ma lo spirito di questo volume mi è, mi si è rivelato soltanto ora, cioè al libro stampato. Tutte le osservazioni fatte mi vanno bene, perché il libro, guardate, questo non è un libro per specialisti, lo si legge come se si trattasse di un romanzo, come se si trattasse di un saggio storico, ma nel senso del saggio che il lettore, diciamo, legge senza dover incontrare paroloni. Nonostante ci siano molti termini latini, molti termini tecnici, abbiamo visto il citamento come sollecito, nonostante ci siano tutte queste parole, il libro è scoprevole, ha una lettura letteraria, non tecnica, pur potenza mettendoci tutta la sua competenza tecnica. Voi sapete meglio di me, se c'è qualche insegnante presente, lo sa che non c'è più l'educazione civica nel mondo della scuola, non si insegna più una disciplina che abbia a che vedere con questo mondo che è il mondo della comunità e della socialità. La scuola italiana si è andata a orientare verso, un po' ci vuole, questi particolarismi e tecnicismi che a volte si consumano nel breve morgere di qualche mese, eccezionalmente un po' di più. Ecco, questo libro secondo me, non so che cosa ne vorrà fare in futuro il sindaco di Nardò, ma io credo che, io ho ascoltato l'intervento del presidente della provincia, è un libro non da imporre, no, assolutamente questo no, perché Potenza stesso nel suo scrivere ci ha messo un anito di democrazia e di libertà straordinario, ma quantomeno di fare una promozione di questo libro. Perché? Perché guardate, si tratta di una storia della democrazia, una storia della libertà, di come si arriva alla libertà attraverso una parola che dentro il libro spesso cita, spesso scrive Potenza, che è la partecipazione, il livello partecipativo della gente, che poi questa gente è il cittadino, lo hanno ripetuto più volte che è intervenuto prima di me. Vi faccio un esempio, l'idea di una camera del cittadino o di una conferenza dei cittadini. Non lo trovate in nessun legislatore, in nessun giudista, in nessun... non esiste. Per la prima volta nel libro Unicipio e Governo centrale, voi di Potenza, voi trovate questa camera dei cittadini. Si è parlato della camera della regione, si è parlato di far tornare la camera del Senato, di mettere la camera dei rappresentanti territoriali e regioni, ma nessuno ha pensato a dire una camera dei cittadini che potrebbe essere, ovviamente non sostitutiva, sostitutiva dei consigli, ovviamente è tutto un discorso da avviare come strutturare questi organismi che individua il dottor Potenza. E guardate l'individuo grazie a quell'esperienza. Ci sono due esperienze prioritarie all'interno della formazione del pensiero di Potenza. La prima è quella della competenza e degli esercizi della sua professione. La TAP invece è un bagaglio culturale straordinario. Cioè il segretario Machiavelli di Firenze, della Firenze dei Medici, non è uno così, no? Non è uno. Ho sentito un momento fa il sindaco citare, per esempio, i partiti e la mese dei partiti. Quando Potenza si riferisce ai partiti e lo fa parte da Machiavelli, dalle considerazioni di Machiavelli sul principe, dalle considerazioni che Machiavelli fa attraverso la sua segreteria in Firenze alla fine del Quattrocento. E questo non è da... E questo non è da... Grazie a tutti.